Spiaggia Agios Nicolaus vicino a Arcasa Spiaggia di sabbia Vedo che poi scende piano piano verso il mare, diciamo l'acqua, il livello dell'acqua, scende piano piano, quindi anche per i bambini magari Però come spiaggia non mi piace, rispetto a quella dove siamo appena stati, di Agios Teodoros a pochi chilometri più giù Non c'è Paragone, è molto meglio là, anche se è molto più piccolo ovviamente Tutta questa gente Agios Teodoros non ci starebbe, dovrebbe spostarsi sulla seconda spiaggia Poi là tutto sassi, qua è sabbia, quindi magari questa è meglio per i bambini Pochi amano le spiagge di sabbia E dietro c'è la solita taverna e il parcheggio E lì dietro c'è Arcasa